La Prima Repubblica La Prima Repubblica Tanto poi Erano casi Dei nostri figli La Prima Repubblica Non si scorda mai La Prima Repubblica Era bella sai La Prima Repubblica Non si scorda mai La Prima Repubblica Tu cosa ne sai Bene, grazie! Buonasera, con buona pace dell'eroe dei nostri tempi, Checco Zalone. La Prima Repubblica è morta proprio nel 1992. Ah, se per l'Irla, come si sa, sono state innanzitutto le inchieste di Mani Pulite. Vediamo tre foto qui, sullo sfondo. A sinistra, Antonio Di Pietro, che simboleggia quelle inchieste di Tangentopoli. In mezzo c'è Mattarella, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica attuale. Che c'entra, direte voi? Beh, è Mattarella che nel 1993, sulla scia delle inchieste della magistratura e di quello che ne succede, dà il via alla nuova legge, che si chiamerà appunto Mattarella, una legge elettorale che decidendo o di qua o di là, che col maggioritario si decideranno le sorti politiche del Paese, ci fa entrare in quella che è stata chiamata poi la Seconda Repubblica. E chi ne approfitta subito? Il terzo, il terzo di questa foto, Silvio Berlusconi, che due anni dopo l'inizio delle inchieste di Antonio Di Pietro, come si sa, vince le elezioni, a sorpresa per molti ma non per tutti, e comincerà quel ventennio in cui vince, perde, vince, perde, ma sempre è stato sulla scena. Il film a puntate, la serie televisiva, che per 5 venerdì ci accompagnerà in prima, in chiaro, qui sulla 7, racconta storie che si legano a quel 1992, l'anno in cui forse tutto cambiò. Noi questa sera, prima e dopo le prime due puntate della serie, ne parliamo con alcuni protagonisti, sicuramente. Uno l'abbiamo già visto in foto, lo vediamo anche qui nello studio, Antonio Di Pietro. Buonasera, buonasera, come vedi sono ancora io. Non lo si metteva in dubbio, ammiratori e denigratori hanno ben presente la sua permanenza sulla scena. Bobo Craxi è il figlio di Bettino Craxi, che morì, lo sappiamo, a Mamet, il 15 gennaio del 2000. Il 19 gennaio del 2000, cioè praticamente 8 anni dopo l'inizio di quella inchiesta, che da subito lo mise, adesso lei dirà, non è così, ma giornalisticamente lo diciamo, nel mirino, come dire, la preda principale di quelle che erano le inchieste giudiziarie del pool di Milano. E come vedremo nella serie, contemporaneamente all'inizio, all'evolvere dell'inchiesta, degli arresti, degli avvisi di garanzia, sorge una entità alternativa. Si chiama Publitalia, si chiama Fininvest, si chiamerà poi Mediaset e come si sa è anche l'embrione, in alcune sue parti, di quella che sarà nel 94 Forza Italia. C'è il personaggio proprio di Marcello Dell'Ultri nella serie. Un testimone che stava in Mediaset, Fininvest, Canale 5, anzi, che era il direttore di Canale 5 e oggi il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Buonasera, Gori. Buonasera, buonasera. E poi c'è chi è stato testimone di quella stagione, di stagioni precedenti, di stagioni successive, che è stato il direttore che fu nel 92 il direttore del giornale che più fu favorevole a Di Pietro, alle sue inchieste, era anche vicino di casa perché viveva e vive a Bergamo e viveva e vive a Curno, a perlomeno lì in residenza, Antonio Di Pietro, ed è Vittorio Feltri. Buonasera, Feltri. Buonasera. Allora, brevissimamente, Vittorio Feltri, io mi ricordo una scena che sicuramente anche tu ricordi. È un giorno della fine del 1992. Per caso eravamo insieme a un incontro, non mi ricordo di che tipo, con molto pubblico. E tu, nelle pieghe del discorso che facesti, annunciasti che era arrivato quella mattina l'avviso di garanzia per Bettino Craxi. E ci fu un applauso spontaneo di tutte le persone che erano lì presenti, come se fosse stata una notizia di un gol della nazionale italiana. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo benissimo. Devo aggiungere che non ero direttore del giornale a quell'epoca, ma dell'indipendente. Sì, sì, ho detto il giornale con la G minuscola. Ecco. In che senso? Ecco, sì, questo è vero. Io, diciamo che mi resi conto immediatamente, dopo che Di Pietro aveva iniziato la sua grande inchiesta, che indubbiamente i partiti rubavano alla grande, nel senso che attraverso il sistema delle tangenti sopperivano alla mancanza di denaro per mandare avanti i partiti. Non avevano avuto il coraggio di legiferare per rendere legale il sistema dei finanziamenti e pertanto continuavano a rubare nella convinzione che non sarebbe mai successo niente. Di Pietro invece mise le mani su un pentolone, lo scoperchiò e naturalmente vennero fuori tutte quelle cose che non si possono negare neanche oggi. Poi Di Pietro avrà sbagliato, avrà ricevuto. Quanto è cambiata la situazione da 1 a 10? È peggiorata, così, stando a quello a cui stiamo assistendo. Peggiorata o comunque non è migliorata. Significa che c'è qualcosa di sbagliato all'origine che andrebbe raddrizzato in modo efficace. Questo sistema non è mai stato trovato e pertanto siamo ancora qui a Pianucolari a dirci le stesse cose che dicevamo oltre 20 anni fa. Questo è molto triste. Giorgio Gori era il direttore di Canale 5. Come si viveva dalla televisione di Berlusconi? È una domanda che retoricamente faccio a te, la potrei fare a me stesso, ma io qui sono il conduttore. Come si viveva dal mondo della TV privata, che era il mondo di Berlusconi, questa situazione? C'era un grande supporto per Di Pietro, c'era in televisione ma anche dietro alle quinte. Ma nessuno forse poteva immaginare, se non pochi, che lì c'era l'embrione dell'alternatività ai partiti tradizionali che diventava addirittura il partito di Publitalia e poi Forza Italia. No, non si poteva immaginare all'inizio, perlomeno nel 92. Vero è che però abbiamo assistito alla caduta, una dopo l'altra, dei riferimenti politici di quello che era allora il nostro, tu e mio editore, il quale da una parte probabilmente era contento dei successi che i suoi telegiornali mietevano, seguendo con grande interesse, con grande vivacità la vicenda giudiziaria, dall'altra però andava via via preoccupandosi perché si è fatto un po' di vuoto intorno a lui. E Bobo Craxi, invece la storia lei l'ha vista diversamente perché da subito, 17 febbraio 92, l'arresto di Mario Chiesa, si dice quasi subito Mario Chiesa che aiutava Bobo Craxi che era il segretario e il cittadino del Partito Socialista, arrivava a Bobo Craxi per arrivare a Bettino Craxi. Ci vollero dieci mesi, ma poi si arrivò effettivamente a Bettino Craxi. Quel 17 febbraio con cui inizia, tra pochi secondi, la serie di 1992. Come se lo ricorda? Ma intanto io la storia la vedo diversamente. Poi arriviamo anche al 17 febbraio per far capire che non ci sarà una guerra. Bobo Craxi e Antonio Di Pietro sono stati al governo insieme nel secondo governo Prodi dal 2006-2008, quindi non ci sarà un match pugilistico, però c'è un dissenso totale, come è chiaro. Di Pietro ha fatto il suo mestiere, naturalmente. Quello che a distanza di 20 anni vale la pena di domandarsi. Io adesso poi le racconterò che il 17 febbraio del 92, io mi ricordo, insomma era una fase politica dove già cominciava a scricchiolare, c'erano delle difficoltà politiche. Insomma i partiti erano... No, no, i partiti non erano nulla. Cioè è anche questa visione che anche nella fiction che vedrete è totalmente falsa, cioè di una società criminale... No, non ci dica come va a finire. Ma va a finire male. Si simpatizza sempre per i buoni, anzi per i cattivi, come il romanzo criminale, in questo caso i magistrati. Cioè questa idea diciamo... Di Pietro come Carminati, no? No, ho detto che i buoni finiscono male. No, non esiste la società criminale della politica che invece poi dopo 20 anni è accaduto qualche cosa... non è accaduto nulla. Cioè la domanda che lei fa, tutto cambia o no? No. Bene, lasciamo questa cosa. Salvo lo so. No, ma è salvo il fatto che è collato un sistema politico democratico che andava avanti dai 40 anni, dove c'era un logoramento, ma la versione per cui c'era una società criminale che oggi in qualche modo viene nuovamente, per nascondere il presente si parla del passato, che faceva parte, diciamo, che obnubilava la democrazia italiana, è tutta una versione falsa, direi quasi tendenziosa. E addirittura che forse i socialisti, addirittura, me lo lasci dire però... Ma io le lascio dire, l'ho invitata io, mica è una tribuna politica, l'ho invitata io, quindi gliela lascio dire tutto quello che vuole. No, e voglio dire che questa idea totalmente falsa, che il luogo comune che è ancora rimasto, che fossero l'epicentro politico del malaffare, è una lettura totalmente falsa della storia. Falsa della storia. È legittimo che lei lo dica. Ma ce ne mancherebbe pure. Di Pietro, dieci secondi, poi iniziamo con la serie e poi subito dopo ne riparleremo, perché abbiamo molte cose da vedere, tra cui il suo famoso interrogatorio pubblico a Bettino Craxi. Io darei le altre parti generiche a Bobo, perché non ci azzecca niente con la storia a suo tempo. Lui era troppo giovane per aver vissuto all'interno di quel che accadeva in quel momento, all'interno dei partiti. Quando tutto il sistema dei partiti, con la scusa del finanziamento illecito per campare, in realtà i notabili del partito si prendevano un sacco di soldi e si le mettevano nei conti correnti all'estero e ci facevano quello che ci volevano loro e la loro femminuccia, mi sembra che ci azzecca niente, col finanziamento illecito e con la politica. Sono gesti criminali, azioni criminali scoperte dalla magistratura, che non ha fatto un teorevo, ha semplicemente fatto dei capi di imputazione. Tot, soldi, incassati, usati per fini propri, prese dalle imprese e le quali imprese venivano favorite invece di ricevere appalti più bravi e più con lui. Ma perché usi il rebo passato? Anche presente. Anche presente. Ci vediamo subito dopo le prime due puntate che vediamo subito di 1992.